Canegatini Bagni, cambio alla guida della Chiesa Madre, si insedia il nuovo parroco Don Marco Ramondetta. Cambio della guardia alla guida della parrocchia Chiesa Madre Santa Maria degli Angeli di Canegatini Bagni tra Don Sebastiano Ferla, 80 anni che per quasi 50 anni, dal 1974, ha svolto il suo ufficio pastorale nella città eblea, prima nella Chiesa Maria Santissima Ausiliatrice, dal 2013 in Chiesa Madre, e il giovane sacerdote 41enne Don Marco Ramondetta, già parroco della Chiesa Madre dei Bucchieri, che lunedì 21 novembre alle 18 celebrerà la Santa Messa di insiedimento nella nuova parrocchia. Presenti l'accevesco Monsignor Francesco Lomanto e i sacerdoti della Diocesi, con loro il sindaco Paolo Menta, e tutte le autorità cittadine, insieme alle comunità parrocchiali e all'intera città, che saluteranno altresì Don Sebastiano Ferla, che lascia la guida della parrocchia per raggiungere i limiti d'età, domenica 20 novembre, con la celebrazione della Santa Messa delle 18.